Una notte al museo non è solo il celebre film americano ma anche l'iniziativa portata avanti ogni anno dal MIBACT con le giornate europee del patrimonio e anche in questa occasione i musei civici di Pavia prenderanno parte attivamente al progetto. Per la serata di sabato 26 settembre infatti è in programma l'apertura straordinaria dei musei civici del Castello Visconteo dalle nove di sera a mezzanotte al prezzo speciale di un euro per tutti i cittadini. Nel corso della notte al museo si potranno visitare la sezione dedicata alla pavia romana, le sale longobarde e la sezione romanica senza dimenticare i mosaici pavimentali e le testimonianze scultore del periodo rinascimentale. All'interno di tutte queste sale inoltre si potranno ammirare gli affreschi di epoca Visconti a Sforzesca come gli stemmi con le impronte Visconti della sala azzurra e gli affreschi con i santi che adornavano la cappella del castello. L'accesso agli spazi avverrà nel rispetto delle norme e dei protocolli previsti dai decreti ministeriali e dalle ordinanze regionali, in particolare con la rilevazione della temperatura dei visitatori al momento dell'ingresso, cartelli sulle misure di prevenzione da rispettare, dispenser con igienizzanti per le mani e guanti monouso per poter consultare cataloghi e gadget. Vi saranno poi percorsi a senso unico per evitare assembramenti e sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina.